Signori, Natale è passato, ho mangiato, abbiamo mangiato e finalmente poi sono finite Non è un video come tutti gli altri perché semplicemente vi volevo dire grazie di tutto ciò che è successo nel 2022 Sempre nel mio piccolo, ma abbiamo raddoppiato gli iscritti e questa community finalmente sta prendendo vita E la cosa mi dà tanta soddisfazione e questo solo grazie a voi Spero di non deludervi nel 2023, ho un sacco di progettini in cantiere Infatti questo è uno di questi Signori, siamo in settimana bianca e siamo venuti con la bestia Attenzione, non è da tutti, ma non è venire fino qua e passare questi giorni lo scopo della missione Ma è una cosa che faremo in questi giorni che non l'ha mai fatta nessuno su YouTube Infatti ti invito a iscriverti e attivare la campanellina per non perdertela Mi raccomando, ogni venerdì alle 14 sul canale non mancare Comunque, tornando al 2023, signori, succederanno grandi cose A partire dalla pubblicazione di questa settimana bianca in compagnia del 1290R A febbraio parte la pubblicazione della moto nuova che c'è in garage Perché Babbo Natale è stato generoso, ma il mio Babbo Natale sono io stesso Signori, è tanta tanta roba Ci sarà una serie dedicata appunto a questo nuovo mezzo E poi si parte con la serie dove esploriamo completamente un'isola Dalla A alla Z, giro a 360 gradi e anche interno Siamo passati da dune di sabbia a sterrati fango A strade della madonna da grattare la valigia Signori, il 2023 sarà tanta roba e sono carichissimo di tutto ciò Spero lo siete anche voi Per il resto non faccio altro che augurarvi un buon fine anno E un buon inizio anno nuovo Spero che esodiate tutti i vostri desideri Io farò di tutto per cercare di esodire il mio con il canale YouTube Ciao raga Like Dynamite